Cambia la forma ma non la sostanza della 24esima giornata nazionale della colletta alimentare. L'iniziativa storica del Banco Alimentare, partita anche nelle Marche il 21 novembre scorso, quest'anno vedrà una colletta dematerializzata. Fino all'8 dicembre alle casse dei supermercati saranno disponibili delle card da 2, 5, 10 euro che verranno convertite in prodotti alimentari per tante persone in difficoltà. L'iniziativa non si esaurirà in una sola giornata ma per 18 giorni le card saranno in distribuzione nei punti vendita che aderiranno alla colletta e potranno essere acquistate anche online. Di solito era un giorno solo, si faceva in un solo giorno dell'anno l'ultimo sabato di novembre. Quest'anno di fronte però all'emergenza Covid e ai regolamenti di tutela della salute abbiamo dovuto fare un passo indietro, abbiamo dovuto ridefinire una modalità per riconsentire comunque alle persone di fare la colletta alimentare. E così è nato un progetto che si chiama appunto Colletta Alimentare cambia la forma ma non la sostanza che prende un grande periodo perché appunto come diceva benissimo è già partita sabato scorso ma continua come una maratona fino all'8 di dicembre. Fino all'8 di dicembre infatti sarà possibile donare in diverse catene della nostra regione in tutta la regione sono 216 supermercati che hanno aderito con una possibilità molto semplice. Vicino alle casse si troverà questa gift card che come vedete ha gli importi di 2, 5 e 10 euro. Si potrà quindi decidere che tipo di importo donare al Banco Alimentare la card verrà passata in cassa, poi ci sarà anche uno scontrino di ringraziamento e così quell'importo verrà subito tramutato in cibo che verrà donato al Banco Alimentare. È un modo per tenere la vecchia tradizione perché noi di fatto distribuiamo cibo nel nostro territorio e raggiungiamo fino a 38.000 assistiti grazie ad una rete di enti assistenziali che sono circa 300 in tutta la regione Marche ma abbiamo bisogno appunto di cibo quindi la vostra donazione arriva subito proprio tradotta in cibo che verrà quindi ridistribuito durante tutto l'anno come da sempre fa il Banco Alimentare.